Salve a tutti amici e benvenuti. Come vedrete tra un momento ho deciso di procurarmi una custodia ufficiale per Nintendo Switch, edizione limitata, dedicata a The Legend of Zelda Thirds of the Kingdom. Et voilà! Comincio con il mostrarvi delle immagini molto ravvicinate dell'oggetto in questione. Davvero bellissimo! Come potete notare i colori principali di questa splendida custodia sono il nero, il grigio scuro e l'oro. Cercherò di mostrarvi questo magnifico oggetto da ogni angolazione, così che la luce del sole possa mettere in evidenza i bellissimi fregi che lo rendono davvero unico. Osserviamo sulla destra una moltitudine di cerchi concentrici di colore oro, uno dentro l'altro. Notiamo inoltre dei bellissimi motivi ispirati al gioco, di colore grigio scuro, che si stagliano maestosi su di uno sfondo nero. L'effetto che si è ottenuto creando questo ardito ma riuscitissimo accostamento cromatico, nel risultato appare molto simile al tipico effetto cangiante che troviamo su alcune banconote e donano a questa custodia un aspetto davvero molto particolare. Osserviamo l'altro lato che ci presenta questa splendida custodia e la prima cosa che cattura l'attenzione dei nostri occhi è l'insieme di simboli realizzati in oro al suo centro. Notiamo quel che sembra un disegno stilizzato di una mano dalle fattezze quasi scheletriche, cosa che certamente ha a che fare con quella di Link in questa sua nuova avventura. Poi tre occhi, uno che ci osserva frontalmente ed altri due posti lateralmente al primo, che guardano rispettivamente verso destra e verso sinistra. Vi sono poi delle linee che si intersecano e dei simboli, che certamente hanno un significato molto importante nella lingua di Hyrule. Alcuni di questi simboli sono situati ai lati della mano, mentre la maggior parte di loro delimitano due cerchi, uno dentro l'altro. Come potete notare, anche le cordicelle che sono legate alla cerniera lampo sono di colore nero ed oro e presentano alle estremità delle piccole maniglie di color crema. Adesso vi mostrerò la custodia di tutte le angolazioni e come appare una volta aperta. Come tutte le custodie per Nintendo Switch che ha avuto modo di visionare, anche questa, ovviamente, presenta al suo interno il supporto che consente di appoggiare la console in modalità portatile, cosa che, sommato ad un buon controller separato, ritengo possa migliorare le vostre performance in giochi come Street Fighter, ma anche con gli altri picchiaduro, perché personalmente ritengo che eseguire certi virtuosismi con i tasti e la levetta direzionale, tenendo contemporaneamente in mano la console, non è sempre agevole. Senza contare il fatto che, per quanto possiamo avere le mani ferme, muovere lo schermo anche impercettibilmente, possa disorientare un po', in questo genere di giochi, nei quali il concetto della distanza è fondamentale. All'interno della confezione troverete anche due pellicole protettive per salvaguardare da eventuali graffi lo schermo della vostra amata Switch. Ovviamente dovrete utilizzare quella che ha la dimensione giusta per la Switch in vostro possesso. Un manuale multilingua vi illustrerà come fare ad applicarla correttamente, evitando che si formino bolle d'aria tra la pellicola e lo schermo. Vi invito a soffermarvi nuovamente sui particolari insiti negli splendidi freggi che impreziosiscono questa custodia. I cerchi concentrici che troviamo sulla destra sono adagiati su delle linee ondulate, sempre di colore oro, che la mia immaginazione suggerisce possano rappresentare delle nuvole o le onde del mare. Notate inoltre, tra i vari simboli, in grigio oscuro su sfondo nero, quello magnifico della Triforza. Dall'altro lato invece, vi invito a porre la vostra attenzione sui simboli in oro posti più esternamente. In questo caso, essi non creano un cerchio completo, ma solo due quarti di cerchio, uno in alto a destra, l'altro in basso a sinistra. Notiamo anche due simboli isolati, che secondo la mia immaginazione potrebbero raffigurare, o forse dovrei dire che potrebbero significare, uccelli. E dato che, parte della nuova avventura di Link si svolge in cielo, il mio potrebbe non essere un accostamento fuori luogo. Ci terrei comunque a sottolineare che io non parlo la lingua di Chirule, e che la mia è solo un'opinione. Sulla sinistra invece, notiamo dei freggi in grigio oscuro su sfondo nero, che certamente raffigurano dei Dangeon, che sono presenti in questa nuova avventura di Link. Sulla destra, potete notare gli stessi cerchi concentrici che abbiamo osservato sull'altro lato della custodia, solo che questa volta essi sono grigio oscuro e non in oro. In basso a destra, se ci fate caso, ad ulteriore conferma che questo è un prodotto ufficiale, troviamo il marchio della Nintendo, mentre in basso a sinistra troviamo il logo della Switch. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Aiutami a crescere amico. Tra amanti di Street Fighter, di Zelda e della Nintendo, dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Zelda e della Nintendo, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.